Però, una volta che sono fuori, voglio sentire l'allavazione di tutto il pubblico femminile, se no me ne torno dentro. Vediamo, vediamo, donne! No, ma guarda, è arrivato la rodino. Rota tutto! Senti, no, ma è normale, perché questo è un personaggio molto amato, quindi appena tu esci c'è il voado, però dipende da come tu esci. Cioè, se esci Mosho, non c'è il voado. A me, a me, a me, a me. Cioè, capito? Di così! Vabbè, attacca! Giovanni, esci! Vabbè, attacca! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti